sono arrivati direttamente da dove arrivi ovvio come ti chiami ma no in verità sei Harry Potter però perché ho fatto la laser nella realtà mi ha invecchiato di colpo poi che cosa abbiamo mi presenti qua il gruppo allora abbiamo qualcosa che non so bene comunque con gli occhiali Pasqualina la chiamiamo Pasqualina poi abbiamo il regista Kubrick giusto sei regista ok me lo giri un po vediamo se riusciamo no ok me lo muovi me lo risolvi dipende dove comunque dipende dove muove questa ragazza smuove tantissimo le nogıyorlar ai pi fammi quello felice mancati via e poi lui è lo ero giustamente il pionetto è questa la polizzo la polizzo se n'è polizzo attenzione mavolizzo eccentrape lento습i non arresti per eccesso di si torretti che lui dice facciamo l'amore non facciamo la guerra giustamente la polizotta invece dice facciamo la guerra non facciamo l'amore ecco me lo ha arrestato per eccesso di erotismo in diretta qui al convento di lonato lui non fa più i piedi e di me l'ha arrestato hai un nome romina ecco molto potenza romina romina ok poi abbiamo qualcuno qualcun altro abbiamo persi gli altri si sono si sono scoppiando albus silente ecco allora mi fai una magia me li fai scomparire ecco di qua foto di gruppo abbracciatevi tutti sconvento di lonato eccoli qua i personaggi della nostra serata eccoli fate un urlo ragazzi direttamente dalla foresta ciao 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 ciao